Elaine Hadsell è stata un'autrice metafisica americana nata come Ellen Barbara Dyskell. Hadsell vinse molti premi in tutti i tipi di concorsi e lotterie utilizzando la legge di attrazione. Vince biciclette, viaggi e persino una casa che le valse il soprannome di leggendaria regina dei concorsi. Ellen iniziò a manifestare dopo aver letto il libro di Norman Vincent Peale Il potere del pensiero positivo. Hadsell ha coniato la tecnica SPEC e ha scritto diversi libri tra cui il contesting, The Name It e Claim It Game. Il metodo utilizzato da Hadsell per manifestare la sua realtà era molto semplice, selezionala, proiettala, aspettala, raccoglila. Ha praticato questo metodo fino alla sua morte, avvenuta nel 2010. Le 30 migliori citazioni di Helene Hadsell. Fai sempre del tuo meglio. Ciò che piantate ora, lo raccoglierete più tardi. Segui la tua beatitudine e ti si apriranno porte che non sapevi esistessero. Le persone che credono di essere la causa delle cose belle tendono a piacersi di più di quelle che credono che le cose belle vengano da altre persone o dalle circostanze. Selezionalo, proiettalo, aspettati, raccoglilo. L'unica competizione che hai è con te stesso. È allora perché dubiti di te stesso. Attiriamo sempre nella nostra vita ciò a cui pensiamo di più, in cui crediamo con più forza, che ci aspettiamo al livello più profondo e che immaginiamo in modo più vivido. Siete davvero molto più brillanti di quanto pensiate, molto più, in effetti, di quanto abbiate mai immaginato. Potete convincervi di aver raggiunto qualcosa, ripetendolo più e più volte fino a sconfiggere il vostro pensiero. Elena Adsel Devi credere che sei tu a creare il tuo successo, che sei tu a creare la tua mediocrità. Citazioni sulla competizione Tutte queste cose che faccio io, potete farle anche voi, e anche di più. Tutto arriva a chi vuole. Tutto ciò che la mente può concepire e credere lo può realizzare. Man mano che si sviluppa il pensiero positivo, il successo sostituisce il fallimento finché non si può più fallire. Ognuno ha un'idea diversa di cosa sia il successo. Ero convinta che se si invia abbastanza energia mentale positiva, alla fine le cose si manifestano nel fisico. Se sai cosa vuoi, puoi averlo. Più sei disposto ad arrenderti all'energia che è in te, più il potere può fluire attraverso di te. Non intrattenere mai dubbi. Questo annulla tutte le correnti positive, forti e potenti. Non vantarsi prima di aver imbustato. Non importa il tuo passato o il tuo presente, puoi cambiare il tuo futuro. Passo 1 Fissare un obiettivo Fase 2 Non avere mai dubbi Fase 3 Puoi convincere te stesso a fare qualsiasi cosa. Ripetendolo più e più volte. Finché un giorno non sarà incorporato nel vostro pensiero. Più si coltiva e si controlla un atteggiamento positivo, più si ha successo. La persona veramente di successo è una persona che pensa positivo. Non esiste il fallimento, ma solo il ritardo nei risultati. I pensieri sono cose. Purtroppo alcuni non sanno cosa vogliono. Sparpagliano i loro desideri in così tante direzioni che non riescono mai ad ottenere nulla. Purtroppo, alcuni non sanno cosa vogliono. Sparpagliano i loro desideri in così tante strade che non accumulano mai abbastanza energia per farsi che qualcosa si manifesti per loro. Non accettano mai pienamente l'idea che, con un atteggiamento positivo e di controllo, possono materializzare tutto ciò di cui hanno bisogno o che desiderano sul piano fisico. Possiamo imparare perché le cose ci accadono, il che ci pone in controllo della nostra fortuna. Nessuna persona e nessuna circostanza può disturbare la nostra pace interiore. Paura e tensione svaniscono quando si usa un controllo positivo. Dolori e mal di testa vengono smascherati e dissolti. Qual è la chiave del successo? La chiave che apre la scatola magica dove sono conservate tutte le chicche della vita. Risiede nella mente. Il grande computer che contiene i segreti dell'universo e della vita stessa. Molto ci aspetta quando diventiamo consapevoli della mente e ne prendiamo il controllo. Molto ci aspetta quando diventiamo consapevoli della mente e ne prendiamo i segreti dell'universo e di segreti dell'universo e di segreti dell'universo e di segreti dell'universo e di segreti dell'universo. Molto ci aspetta quando diventiamo i segreti dell'universo e di segreti dell'universo e di segreti dell'universo e di segreti dell'universo e di segreti dell'universo.